Ho deciso di frequentare il Master Tributario dell'Ipsoa perché dopo l'abilitazione da avvocato e alcuni anni di esperienza in uno studio legale sentivo la necessità di una crescita professionale e di specializzarmi in una materia interessante ma anche complessa come il diritto tributario. Dopo questi primi mesi in aula posso confermare che il Master sta rispettando le mie aspettative perché frequentare il corso mi consente di confrontarmi quotidianamente con un team di docenti e di professionisti di altissimo livello e è molto importante anche il confronto con i miei colleghi che è reso possibile grazie ai numerosi lavori in team che ci consentono anche di approfondire e di sviluppare le varie problematiche affrontate in aula con un approccio pratico. Questo Master richiede sicuramente grande impegno ma credo di anche molte soddisfazioni sia a livello professionale che a livello personale. Ho frequentato il Master tributario EPSOA nell'anno 2013-2014 poiché avevo discusso una tesi in diritto tributario che mi aveva inizialmente avvicinato alla materia e conseguenzialmente ho deciso di approfondirla frequentando un Master che mi ha consentito di acquisire un metodo che tutt'oggi spendo in ambito lavorativo in quanto il Master mi ha anche consentito di poter lavorare ad oggi in un importante studio tributario legale dove mi rendo conto che senza il pregresso approfondimento fatto durante tutto il corso del Master sia teorico che pratico non avrei potuto ad oggi operare o comunque approcciarmi a toluni problemi applicativi che il mondo lavorativo tutti i giorni propone. Dopo un'esperienza universitaria mi sono avvicinato al diritto tributario facendo un'esperienza lavorativa presso uno studio tributario internazionale più mi addentravo nella materia e più mi appassionavo ma allo stesso tempo mi rendevo conto che la preparazione universitaria non era né adeguata né sufficiente. Ho quindi sentito la necessità di frequentare un Master per acquisire gli strumenti in modo da orientarmi con consapevolezza nel mondo del diritto tributario fatto di un contesto di norme, di prassi e di giurisprudenza molto complesso, disorganico e talvolta contraddittorio. La scelta è ricaduta sul Master Ipsoa per la credibilità del marchio, per la struttura dei corsi, per i rapporti privilegiati con studi professionali ma soprattutto per la qualità del corpo docente. Il Master mi ha consentito di acquisire una bussola, uno schema di riferimento ma soprattutto la corretta metodologia per affrontare in modo critico le problematiche del diritto tributario. Durante i nove mesi d'aula ho stretto dei forti legami con persone che a tutt'oggi rappresentano un ottimo network di riferimento. I successivi tre mesi di stage hanno rappresentato per me un'opportunità per frequentare uno studio di primo livello. Al termine dello stage sono stato confermato e poi la mia attività lavorativa è proseguita nello stesso studio per circa otto anni al termine dei quali ho fondato insieme ad altri colleghi uno studio professionale. A distanza di parecchi anni ormai posso sicuramente affermare che la scelta di frequentare il Master Ipsoa si è rivelata assolutamente vincente in quanto mi ha permesso una rapida crescita sia personale che professionale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!